Dalla tranquillità del centro classifica in Grecia a una situazione difficile qui a Forlì dove bisogna lottare per la salvezza. Sean ha scelto l'Italia, benvenuto qui in Romagna. Arrivi in una situazione molto delicata. Cosa ti aspetti di poter dare a questa squadra? Mi aspetto di dare tutto quanto il mio impegno, tutta la mia energia, di dare veramente il massimo e di non far mancare il mio supporto ai miei compagni di squadra. Hai già assistito a una gara del Fulgo Libertas Forlì. Che tipo di squadra hai visto? Ora c'è la pausa del campionato. Lavorerai per inserirti al meglio in questi meccanismi? Abbiamo molto tempo per prepararci al meglio alla prossima partita e quindi senz'altro riusciremo a essere competitivi e pronti per fare bene. Ti chiedo, arrivi appunto dal campionato greco ma tu sei finlandese, giochi in nazionale già da varie stagioni ad alto livello. Insomma, quindi per Forlì un acquisto importante. Perché te e molti altri finlandesi ormai state scegliendo sempre più l'Italia? Abbiamo un gruppo di giocatori sempre più validi in nazionale. Senz'altro l'Italia è un posto che ci piace, oltre a una rega molto stimolante, quindi è veramente il massimo per noi. Sean, Forlì vuole la salvezza, il pubblico segue ancora la squadra nonostante tante difficoltà, tante sconfitte. È una salvezza possibile? Assolutamente sì, abbiamo nove partite, cercheremo di fare il massimo, le guarderemo una alla volta e con un approccio deciso e determinato riusciremo a farcela.